Esercizio 31, pagina 87. 3 grammi di propano. Propano ha questa formula chimica C3H8. Vuole sapere quanti atomi di idrogeno e di carbonio ci sono contenuti in questi 3 grammi. Quando diciamo che abbiamo una certa quantità di sostanza, quella quantità si chiama massa del campione. La indichiamo con M minuscolo. Sappiamo già che le moli si indicano con N minuscolo. Mm è la massa molecolare. In questo caso non dobbiamo parlare di massa atomica perché C3H8 è un composto, quindi ha una molecola. Il propano ha una massa non atomica ma molecolare che si calcola semplicemente sommando la massa degli atomi che lo formano. Come è fatto il propano? È fatto in questa maniera. Ha 3 atomi di carbonio C3 e 8 atomi di idrogeno intorno. Quindi per calcolare la massa molecolare della molecola di propano dobbiamo sommare la massa dei 3 carboni, quindi 3 volte la massa dell'atomo di carbonio più 8 volte la massa dell'atomo di idrogeno. L'unità di misura è U, l'unità di massa atomica. Qual è la massa dell'atomo di carbonio? È questa, 12,01. Qual è la massa dell'atomo di idrogeno? È 1,008. Questi si trovano sulla tavola periodica. Vediamo infatti, qui c'è l'idrogeno. Ingrandiamo. 1 è il numero di protoni, il numero atomico. 1,008 è la massa atomica. È scritto anche qui massa atomica. Il carbonio invece ha 6 protoni, non ci interessa, ha 12,01 U, unità di massa atomica. Questa è appunto la massa atomica del carbonio. Quindi la massa molecolare della molecola di propano è questo valore qui in unità di massa atomica. Togliendo U e mettendo grammi otteniamo la massa di una mole, M grande, 44 o poco più grammi. Qui ho riportato la massa atomica dell'idrogeno e del carbonio che abbiamo visto sulla tavola periodica. Poi per fare questi esercizi si usano spesso queste due formule. La massa del campione è uguale alle moli per la massa molare e il numero delle particelle, in questo caso delle molecole, è uguale alle moli per il numero di Avogadro. Sono intuitive queste due formule. Infatti, cominciamo dalla prima, immaginiamo di avere per esempio 5 moli di propano. Siccome sappiamo quant'è la massa di una mole, è circa 44 grammi, allora 5 moli di propano corrisponderanno a una massa che è 5 volte 44 grammi. Quindi, per sapere la massa di tot moli di propano, basterà moltiplicare il numero delle moli per la massa di una mole sola. In questa formula, in questa equazione, noi non sappiamo quante moli sono, ma sappiamo quanti grammi abbiamo di propano. Abbiamo 3 grammi e sappiamo la massa molare, 44 grammi. Quindi, già capiamo che 3 grammi è meno di una mole, è tanto meno, perché una mole è 44 grammi e noi ce ne abbiamo solo 3. Quante moli abbiamo? Facciamo la formula inversa, dividendo, portando la massa molare qua sotto. Quindi, N uguale M e la massa molare va qua sotto. Quindi, noi abbiamo quante moli? 3 diviso 44, ma è anche logico, se abbiamo 3 grammi e una mole è 44 grammi, abbiamo 3 quarantaquattresimi di mole, circa 0068 moli. Passiamo alla seconda formula. Noi sappiamo che una mole contiene un numero di Avogadro di particelle, in questo caso di molecole. Infatti, il numero di Avogadro è 6,02 per 10 alla 23, rappresenta quante molecole stanno in una mole. Ma se noi abbiamo invece, per esempio, 5 moli, allora quante particelle molecole, in questo caso di propano, abbiamo? Se fosse una mole, avremmo un numero di Avogadro di molecole. Ma abbiamo 5 moli, quindi dobbiamo fare per 5. Quindi, anche questa formula intuitiva ci dice come calcolare il numero delle particelle, delle molecole, conoscendo il numero delle moli. Dobbiamo moltiplicare il numero delle moli per il numero di molecole in una mole sola, che è il numero di Avogadro. Noi però qui non abbiamo 5 moli, io ho inventato l'esempio 5 moli, ma in realtà ne abbiamo 0068. Quindi, per sapere quante particelle di propano, quante di queste molecole abbiamo, dobbiamo moltiplicare le moli, quindi 0068, per il numero di Avogadro. Il risultato è questo numero. Quindi abbiamo 4,10 per 10 alla 22 molecole di propano. Ma la domanda non era quante molecole di propano ci sono in 3 grammi, ma quanti atomi di idrogeno e di carbonio. Allora, guardando la formula C3H8 e come è fatta la molecola di propano, vediamo che ogni molecola di propano contiene 3 atomi di carbonio e 8 di idrogeno. Quindi noi conosciamo quante sono le molecole di propano, sono questo numero qua. Però poi dobbiamo fare per 3, perché ogni molecola ha 3 carboni. E dobbiamo fare questo numero per 8, perché ogni molecola di propano ha 8 idrogeni. Quindi il numero degli atomi di carbonio è 3 per questo valore e il numero degli atomi di idrogeno è 8 per questo valore, cioè le particelle di propano. Come è scritto qua, ogni molecola di propano ha 3 carboni, 8 idrogeni. Quindi dobbiamo moltiplicare il numero delle molecole di propano per 3 e per 8. E questi sono i risultati. Quindi quanti atomi di carbonio ci sono in 3 grammi di propano? Questi atomi. 1,23 per 10 alla 23. Quanti di idrogeno? Quanti atomi? 3,28 per 10 alla 23.